segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cacciari professore ci aiuti un po a capire che lettura dà dei fatti di israele è una tragedia tra israele e palestinesi che dura da decenni praticamente da dalla fine della seconda guerra mondiale e non trovano soluzione è una soluzione può essere trovata soltanto sul filo della di alcune risoluzioni molto importanti che l'onore via via preso e sono rimaste completamente disattese e occorre da una parte lo so che non è semplice e tutt'altro che semplice riconoscere il diritto del popolo palestinese ad uno stato che c'è uno stato e non un ghetto e dall'altra parte un riconoscimento pieno senza se e senza ma dello stato di israele ma come si farà le decisioni fondamentali le decisioni globali possono essere assunte soltanto attraverso l'accordo il patto tra potenze globali è sempre stato così è però professore e oggi lo è ancora ecco lei però professore auspica un approccio razionale a questa vicenda che sembra quanto di più lontano in questo momento veda floris ormai non si ragiona più da nessuna parte perché ragionare secondo la mentalità secondo la razionalità occidentale e di cui che la sola di cui mi intendo un po ragionare vuol dire sempre risalire alle cause non si sa nulla fin tanto che non si sanno le le cause di un fenomeno e quindi bisogna di fronte ad ogni guerra bisognerebbe sempre saper risalire alle cause comprendere le ragioni e con la nei limiti del possibile con la massima obiettività certo che non saremmo mai del tutto obiettivi per vari motivi non è realistico pensare che si possa tenere appunto un popolo nelle condizioni attualmente versa quello palestinese e non è realistico pensare di poter abbattere lo stato di israele quindi da parte dei contendenti ovvi è un principio di realtà che 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 subentra che si impone oppure saranno periodiche tragedie come quelle che viviamo da anni le guerre hanno una storia e se noi vogliamo conoscerne le cause e quindi cercare di rimuoverle occorre sapere questa storia non puoi semplicemente andare avanti a occasioni oggi è successo oggi c'è l'undici settembre basta e prima non c'è niente oggi c'è l'invasione russa prima non c'è niente oggi c'è hamas che invade israele e prima non c'è niente e non possiamo ragionare non è un ragionamento è pur infattilismo però però professore lei dice ragioniamo sulle cause ma ragionare sulle cause in questo caso può voler dire anche approfondire analizzare le responsabilità di israele nei confronti della popolazione palestinese questo porta spesso nella cultura anche occidentale un otomatismo no sei amico di hamas sei contro israele ma questa è la mentalità succube nostra perché negli stati uniti ad esempio è pieno di intellettuali e pieno di politologi che criticano la politica americana in ucraina senza che ciò susciti il minimo scandalo questa posizione succube è propria dei provinciali e propria dei poveretti e proprio di quelli che devono stare sempre con un padrone per poter sopravvivere ma scherziamo e in israele e in israele non ci sono forse forze politiche in israele che sono apposta a netanyahu che hanno fatto una battaglia strenua contro la politica di netanyahu ancora sono sono grandi democrazia sia gli stati uniti che israele nella quale ci sono che c'è chi contende e radicalmente con le politiche diciamo dei governi che si vanno succedendo e soprattutto oggi nei confronti della politica di biden e nei confronti della politica di netanyahu e questo non suscita alcun scandalo ha anche questo modo di pensare un effetto boomerang in qualche modo perché è nell'opinione pubblica poi su realtà complesse come quella della guerra è volatile in qualche misura è volubile ci dimenticheremo della guerra in ucraina c'è anche questo rischio ovviamente c'è anche il rischio perché in ucraina è una situazione che va risolta chiaramente no perché non possiamo assistere alla alla tragedia e al massacro di quel popolo è chiaro che bisogna sostenerlo è chiaro che bisogna giungere a un punto in cui lì da parte russa venga riconosciuto chiamiamolo come vogliamo l'errore l'accordo quello che volete ma venga riconosciuta insomma la colpevolezza voi lì c'è una responsabilità precisa tu non puoi invadere un altro paese ma anche lì veda manca principio di realtà perché da una parte c'hai una russia che che non ha ancora come dire metabolizzato il fatto che è una potenza che è stata sconfitta da una guerra fredda finché si vuole ma guerra come giustamente si chiama guerra fredda è stata sconfitta e quindi deve deve ricollocarsi in un quadro di equilibri internazionali che non può più essere quello che aveva all'epoca dell'unione sovietica e della guerra fredda quindi un principio di realtà anche lì e dall'altra parte altrettanto principio di realtà insomma raccontami cosa vuoi far esplodere la federazione russa stai attento per se vuoi far esplodere la federazione russa rischi appunto un conflitto mondiale oppure oppure vuoi semplicemente come giusto far capire alla russia che non può comportarsi come quando invadeva budapest invadeva praga anche qui sono principi di realtà e le politiche internazionali dovrebbero e responsabili dovrebbero esplicitarle le loro linee la mia linea realistica è che la russia non può più permettersi di invadere praga o di fare come a budapest o ancora la prepotente come a varsavia non può più fine l'hai capita russia bene e quindi io l'ucraina la lettonia l'estonia fanno quello che vogliono vogliono i missidi e non c'è niente da fare te la devi mangiare russia principio di realtà dall'altra parte dall'altra parte tu occidente cosa vuoi far esplodere la russia attenzione è pericolosetto perché non è più la potenza unione sovietica o anche zara però è sempre la russia vero la russia che va da dai confini dell'ucraina dalla terra di confine fino al pacifico attenta è un problemino e allora principio di realtà in ogni se vogliamo che la politica si svolga con armi politiche diplomatiche eccetera bisogna muoversi sulla base di un grande realismo altrimenti rischi le tragedie perenni continue le guerre continue con la speranza che poi non deflagrino in un conflitto mondiale di nuovo e secondo lei questo approccio razionale questo principio di realtà dovrebbe essere portato dai grandi sui piccoli ma certo per i piccoli sono sempre necessariamente a rimorchio per forza per forza per rispondi fisiche no e cioè io non ho la macchina che mi che 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 vada io devo stare nella macchina di 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 quello che la possiede non ce l'ho io c'è poco da fare è sempre stato così nella storia che discorso è sempre stato così grazie professor cacciari grazie a lei grazie